Sì, un'esperienza importante che ha portato Siena ad avere 36 comuni su 36 a mettere nelle condizioni i nostri cittadini di poter esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi e la sfida è entro un anno cercare di portare tutti i comuni toscani a fare in modo che i cittadini possano nei loro comuni fare questa scelta, una scelta di civiltà, una scelta culturale, una scelta importante sulla possibilità di assecondare la propria donazione degli organi ed è giusto che la facciano le persone quando sono in vita per consentire e agevolare poi i meccanismi sia di espianto degli organi che di trapianto dove la Toscana vuole essere comunque una regione d'eccellenza rispetto a questa tematica, quindi sia sul tema della donazione e poi correlata alla possibilità di investire sempre di più per quanto riguarda il settore dei trapianti in Toscana. Faccio allora un appello a tutti i sindaci della Toscana perché aderiscono? Sì, l'appello nasce appunto da Siena per vedere che questo nostro modello che oggi si può dimostrare che può funzionare che i comuni possono realizzare questa iniziativa è l'appello a fare in modo che tutti i comuni offrano ai loro cittadini questo servizio è un servizio di civiltà, di grandi opportunità, una sfida culturale che dobbiamo vincere insieme la sfida nell'ambito di questo anno, vedere che tutti i comuni toscani partendo da questa esperienza possano offrire questi servizi ai loro cittadini, i cittadini possano fare riferimento agli uffici anagrafi e il sistema di Siena messo in piedi appunto dal nostro staff è nelle condizioni oggi di poter dare informazioni e ausilio e supporto a tutti i comuni toscani. Grazie a tutti.